Volete testare un nuovo leader nel meta di OP06? Desiderate utilizzare un mazzo che vada a coinvolgere attivamente anche la pila degli scarti? Quale personaggio potrà rispondere appieno a tali esigenze esprimendo appieno il proprio potenziale in questa tier tutta da scoprire? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. I pre-release delle ali del capitano sono finalmente arrivati e sono già diversi gli aspiranti re dei pirati che nei tornei sealed, come quello che è andato live ieri, potrete trovare la diretta nella scheda appena apparsa in questo momento, hanno iniziato a mettere le mani sugli elementi fondamentali per la creazione di nuovi archetipi di deck che in questo sesto atto del TCG a tema piratesco domineranno i mari. E tra essi ce ne sarà uno che più di tutti si farà sentire, capace di manipolare le ombre e i defunti a proprio piacimento che al suo servizio faranno ritorno dall'oltretomba, incastrandosi in combinazioni di carte che metteranno la parola fine alla vita sulla bordo avversaria. Sto parlando di colui che ha sul campanello della propria dimora la frase abbandonate ogni speranza o voi che entrate, sto parlando del principe delle tenebre, sto parlando di Moria. Nel video di oggi quindi andremo ad analizzare le dinamiche che muoveranno questo deck, scoprendo le caratteristiche che lo renderanno pericoloso nel meta attuale e quali saranno le sinergie che offrirà a tutti coloro che vorranno vestire i panni del signore degli inferi. Signori, dalle statistiche di YouTube ho notato che in media il 77% di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Pensate che se solo la metà decidesse di supportare il progetto si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo. Perciò datemi una mano, se ancora non siete iscritti basta un click, per voi è un semplice gesto ma per me è di grande aiuto. Grazie per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di Moria Nero, andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo dal leader che con i suoi 5.000 punti di forza e 5 vite a supporto vi permetterà quando attaccherete, assegnandogli un singolo don e spendendone altri due e scartando una carta, di piazzare i primi due elementi dalla cima del deck nella pila degli scarti, giocando di seguito un personaggio contratto thriller bark con costo pari a 4 o inferiore sul terreno dal cimitero. La decklist in questione orbiterà quindi quasi interamente attorno alla dinamica di ripristino dei character distrutti e scartati e vedrà il quartetto di Zuru, Victoria Sindri, Hina, Borsalino Blocker, Absalom, Dr. Hogbeck, Perona e Moria costo 8, assieme al duo di Rebecca, Kobe, Brannio e il Mepo, Tassigi, Kuzan costo 4, Luci e Sabo per il lato character e la coppia di Ice Age che chiuderanno questa profile. Le carte cardine di questo mazzo saranno di sicuro le Perona, Imoria, le Hina e le Rebecca che vi forniranno un supporto sostanziale atto a rafforzare la solidità del deck. Mentre il resto, come Kuzan, le stesse Hina, gli il Mepo, le Ice Age e all'evenienza le Zuru e le Tassigi serviranno per andare a ridurre il costo dei character nemici, portandoli a tiro delle diverse azioni dei Luci, Absalom e Kobe che completeranno l'opera di smaltimento della bordo avversaria. Altro fattore da tenere bene a mente sarà la sinergia del Triss composto da Moria costo 8 che vi permetterà di recuperare sia Kobe che il Mepo dalla pila degli scarti. Infatti attraverso l'effetto del Re delle Tenebre potrete tornare a giocare i compagni d'arme impiegando il figlio di Morgan, Esaurito, che comunque attraverso il suo effetto on-play andrà a ridurre di 3 il costo di un character avversario e innescando subito dopo il suo ingresso in battaglia a Kobe che metterà KO un elemento rivale con valore di gioco pari a 2 o inferiore. Ottima combo se vorrete togliere di mezzo eventuali Queen ad esempio e dal contempo avere una buona presenza sulla board. Questo mazzo vedrà un concentrato di forza brutta e a parte i character destinati alla difesa vedrà ben 32 fonti offensive valide che potranno naturalmente dar fastidio alle difese rivali, contando sul fatto che la maggior parte di essi, quando verrà impiegato in campo, vi consentirà di svolgere azioni utili a migliorare il motore di esecuzione dell'intero deck. Ultime ma non per importanza saranno di sicuro le Perona, che oltre a possedere degli utilissimi 5000 punti di attacco se la situazione richiederà un pizzico di aggressività in più, permettendovi appena giocate di scegliere se far scartare una carta all'avversario o di dare meno 3 ad un valore di costo di un singolo personaggio nemico, avranno anche un validissimo counter più 2000 che, a tutti gli effetti, parere strettamente personale, la rende una delle più versatili della sua categoria attualmente in gioco. Quindi, dopo aver visto l'intera lista e alcune dinamiche che la muovono, passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo, ponendoci come sempre la solita prima domanda. Come funziona questo deck? Concentratevi maggiormente sulla dinamica di recupero. Il leader in questione vi tornerà utile alla causa, anche perché se scarterete attraverso il suo effetto un mori a costo 8, potrete comunque riaverlo grazie al dottore, ottenendo eventualmente nell'immediato tutto ciò di cui avrete bisogno. Quindi leggete bene ogni effetto e divertitevi nel vedere il terrore puro negli occhi di chi vi giocherà contro. Per la fase offensiva, come già accennato, questo deck possiederà diverse fonti offensive, come Ina, Kuzan, Borsalino, Absalom, il Dottore, Perona, Luci, Sabo e Moria, ma non sottovalutate anche il potere intrinseco di Tassigi, che attraverso l'assegnazione di un singolo don, il suo potrà farlo comunque. Per quella difensiva avrete le appena menzionate Tassigi, le Zuru, le Rebecca, i Borsalino, le Vittoria, le Perona e i Sabo, che andranno a costruire un primo muro difensivo che risulterà ricorrente durante l'intero arco dell'incontro. Trattando invece l'argomento mano iniziale, le carte must have da avere saranno di certo un qualsiasi counter più 2000, un Kuzan o un Borsa, una Ina, un Event ed un Absalom. Se sarà così potrete procedere tranquilli. In caso contrario, mulligan ed incrociate le dita. Parlando di matchup, questo deck risulterà essere il prossimo esponente della fascia alta della tier e quindi non avrà molte difficoltà contro altri rivali, gialli compresi, soprattutto dopo l'eventuale indebolimento di Saka a causa della band che, al momento, voglio ricordarlo, non è ancora stata estesa qui in occidente. L'unico che potrà crearvi noie sarà un pluffi o una perona nero-verde, ma potrete comunque contenerli se esprimerete appieno il potenziale dell'intero deck. Per il resto non ci saranno leader che vi impensieriranno. Ma non sottovalutate mai chi vi giocherà contro. Per la win condition, la meccanica di basse sarà quella di recuperare pezzi da giocare attraverso l'effetto di Moria, sia leader che character, per riempire la board. Ad esempio, prima ho menzionato la sinergia testata dal sottoscritto tra Moria, Kobe e del Meppo, ma anche quella tra lo stesso Moria, un altro personaggio e Rebecca avrà un discreto peso, dato che la bellezza di Dressrosa, a sua volta, potrà andare a piazzare sul terreno altra presenza, recuperando eventuali Borsa o Sabo dalla pila degli Scarti, pronti per fare il loro ingresso in campo. Brutta storia per l'avversario, soprattutto se attivata nel late game. Invece le carte obbligatorie, che non potrete assolutamente sostituire con nessun altro elemento, saranno le Rebecca, per l'appunto, le Ina, i Cuzan, i Borsa, gli Absalom, i Dottori, le Perona, le Vittoria, i Sabo, i Lucci e i Moria. Notate bene, se ci avete fatto caso non sono state incluse le grader option nella profile odierna. Questa decisione è stata presa in vista di un eventuale ban, ma se così non sarà, vi basterà sostituire i Kobe e Yelmeppo con quattro copie del pugno magmatico, anche se il figlio di Morgan lo terrei, inserendo solamente due copie dell'air option. Insomma, come sempre, testate la versione che più si adatterà alle vostre esigenze. Infine, per la fase counter, avrete a disposizione 14 più 2000 e 22 più 1000, che potrete utilizzare all'occorrenza, soprattutto quando gli assalti rivali si faranno più pressanti e a voi mancheranno blocker sul terreno. Prima di concludere volevo fornirvi qualche informazione di base in più sull'utilizzo del deck. Moria vuole partire per secondo, dato che i suoi pezzi importanti richiederanno un valore pari per poter essere giocati. Ciò però non sta a significare che, partendo per primo, rischierà la pelle. Tutt'altro, infatti grazie all'effetto del leader, che richiederà per l'appunto un valore di innesco disparo, potrete a tutti gli effetti far scendere in campo elementi utili che, comunque, impensieriranno chi vi giocherà contro già dalle primissime battute di un match. Concludendo, Moria è un mazzo che sono certo vi divertirà, soprattutto per le sue dinamiche innovative, che erano state introdotte già da Rebecca Blu Nero, ma che qui verranno raffinati e basandoci addirittura a un intero archetipo di deck. Quindi coraggio navigatori, vestite anche voi i panni del sovrano di Thriller Bark, abbracciando le tenebre e l'orrore, che solo attraverso le meccaniche di questo leader potrete riversare i suoi campi di battaglia. E voi, inizierete a testare il possessore del frutto Shadow Shadow? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.